Vi presentiamo il nuovo siero Lierac Luminescence. È un siero in grado di agire su macchie, rossori e irregolarità cutanee. Si utilizza come primo prodotto dopo la detersione, prima del trattamento abituale. Un consiglio in più, miscelato a fondotinta, garantisce un effetto eclat immediato grazie alla presenza delle madre perle illuminanti. All'acquisto di un prodotto anti-età riceverete in omaggio una pochetta disponibile in tre colorazioni. Sulla linea esclusiva, in dotazione, una Trousse Prestige.